benvenuti ragazzi per questa nuova gita in sardegna oggi faremo un bellissimo giranello per porto masua e pan di zucchero giro breve ma molto carino prepariamoci per l'avventura scala di ferro che vista scusami ma i faraglioni di capri non sono più alti no come no trovo a placare senza controllo ahhh c'è il telefono su un boomerang, poi torno eccoci qua, in due ore e un quarto siamo arrivati al canale grande, vi abbiamo visto pan di zucchero e adesso si torna a Masua beviamo? beviamo guarda Masua che cielo pulito cosa fai? ragazzi siamo arrivati, abbiamo finito il nostro giro, adesso andiamo al punto ristoro buono, vi lascio qui un po' di statistiche relative alla gita di oggi, tranquilla, comunque estiva sì, ma avevamo tanta acqua quindi siamo andati bene niente, seguitemi sul mio profilo di Komoot e ci vediamo alla prossima avventura, ale ale ok 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 ok